Ci sono cose che le parole non possono descrivere. Sembra che non abbiano una fine. Non ricordi quando sono iniziate. Ti pare che siano lì da sempre, aspettando in silenzio. E un giorno ti trovi nel mezzo e senti che conta solo andare avanti. Esiste un'unica strada, quella che ti viene incontro. E tu la percorri con il tuo passo. Così veloce da sfidare il vento. Così lento da contare i granelli di sabbia. Quello che ti porta dentro è quello che ti porta lontano. Qualcuno la chiama passione. Io la chiamo superveloce. Così spiella. buongiorno buongiorno e benvenuti grazie per essere qui con noi alla presentazione online della nuova gamma superveloce 2021 dalla bellissima e magica fabbrica mv agusta qui a schiranna sul lago di varese allora un instant classic che ha fatto già scuola nel mondo mv agusta è proprio questo come si può evincere da questi due gioiellini che ho al mio fianco cuore e ossatura moderni si abbinano a un look da autentica modern classic la superveloce è l'unica classica racing sul mercato e non ha impiegato molto a diventare una pietra migliare non soltanto per il marchio mv agusta ma proprio per tutto il mondo del post heritage in particolare mv agusta è riuscita a creare con questa moto qualcosa di obiettivamente unico e irripetibile adesso basta con le parole perché a parlare saranno degli illustri ospiti che ci saranno a questa presentazione con me oggi adesso lasciamo che a parlare siano le immagini ci sono cose che le parole non possono descrivere sembra che non abbiano una fine non ricordi quando sono iniziate ti pare che siano lì da sempre aspettando in silenzio e un giorno ti trovi nel mezzo e senti che conta solo andare avanti esiste un'unica strada quella che ti viene incontro e tu la percorre con il tuo passo così veloce da sfidare il vento così letto da contare i granelli di sabbia quello che ti porti dentro è quello che ti porta lontano qualcuno la chiama passione io la chiamo super veloce davvero immagini suggestive che ci fanno automaticamente pensare a che cosa ci sta dietro qual è la filosofia beh lo vediamo col direttore marketing di mv agusta filippo bassoli ciao filippo ciao eric come stai bene grazie buongiorno a tutti buongiorno senti appunto parlavamo di filosofia che cosa ci sta dietro a una moto come super veloce 2021 intanto sono molto felice di aprire la presentazione di questa nuova super veloce una moto che fin dalla sua prima apparizione nel 2018 ha fatto letteralmente girare la testa a tutti i motociclisti agli appassionati del bello e del design del resto si era capito da subito con la sua vittoria al concorso d'eleganza di villa d'este che super veloce stava definendo un nuovo segmento di mercato super veloce infatti un concetto unico una racer neoclassica neo per la sua tecnologia assolutamente all'avanguardia classica per i riferimenti al passato ispirati alle caratteristiche forme delle moto da corsa degli anni 60 e 70 una sportiva senza tempo a suo agio in tutte le situazioni dall'aperitivo in città alle infinite curve del passo dello stellio maneggevole e sempre divertente colori inediti perfetti per un brand che si sta posizionando sempre più nel panorama delle due ruote come unica e differente speciali come le recenti versioni limitate della super veloce alpin e super veloce 75esimo anniversario moto andate sold out in pochi minuti dopo la loro presentazione online una moto ideale per esaltare i propri sensi e le proprie passioni un filo diretto tra cuore cervello e muscoli dove nel cuore troviamo la passione nel cervello la tecnologia e nei muscoli la potenza grazie grazie al direttore marketing mv agosta filippo bassoli grazie bene allora adesso che abbiamo avuto un overview un po della filosofia che sta dietro a questa magnifica moto andiamo un po più nel tecnico nel pragmatico e lo facciamo con la rnd director mv agusta e crc brian gillen ciao brian ciao come stai molto bene molto bene grazie bene senti perché non entriamo un po nel tecnico no magari nella ciclistica che sappiamo che è un fiore all'occhiello di mv agusta per tutta la produzione si la ciclistica è molto importante per noi qui in mv agusta e lo super veloce alle piastre del telaio che sono state riprogettate per avere una rigidezza torsionale e longitudinale incrementato insieme con un radiatore di olio che è stato riprogettato anche per abbassare le temperature dell'olio del motore e anche l'aria che arriva verso l'utente di oltre 5 per cento e non possiamo parlare del telaio senza dire quanto è importante nell'assieme della moto anche il motore che fa parte della struttura del telaio ecco appunto hai citato il motore non sappiamo del tre cilindri schiranna che è in continua evoluzione no proprio vero è proprio vero il nostro motore tre cilindri e che utilizziamo sulla super veloce non è solamente un motore propulsore è anche una parte integrante delle dinamiche delle moto con il nostro abromotore contro rotante l'unico nella sua categoria ha un impatto importante sulla dinamica della moto rendendo ancora più immediata l'inserimento in curva quando tu sei in staccata questo motore per modi 21 ha subito tutta una serie di modifiche e interventi questi interventi avevano due scopi principali il primo scopo è sempre la curva di coppia e potenza sempre più lineare sempre più fruibile e più facile e di gestire e la secondo scopo è ridurre l'emissione gas di scarico molto attuale molto attuale molto importante a fronte delle nuove normative di leggi euro 5 di intervenire su tutte le parti del motore per affrontare queste normative e dunque come abbiamo fatto questo abbiamo intervenuti su varie parti del motore dalle guide delle valvole che sono completamente nuovi bicchianini comando valvola con riporto dlc le bronzine di banco albero motore e bl è un sistema di frizione completamente nuova che aiuta pilota di fare delle partenze proprio di lampo ecco brian entrando un po invece più nell'elettronica diciamo dall abs passando per i comandi e il firmware della centralina che novità ci sono per super veloce 2021 che novità ci sono ci sono tutti l'architettura dell'elettronica per modi 21 è cambiato completamente a partire di un nuovo struttore che utilizza al suo cuore una piattaforma inerziale a sei asse che vede la posizione della moto in tutti i sensi in frenata in accelerazione e anche in rolio in inserimento curva perché importante questa tecnologia questa tecnologia qua è sfruttato dal nostro sistema di abs sviluppato insieme con il nostro partner contenente che un abs con funzione cornering un sistema che mentre tu stai frenando inserendo la moto portando la moto al massimo della piega al centro curva la abs sta funzionando in funzione proprio dall angolo di inclinazione aiutandoti in massima sicurezza poi questo sistema con la piattaforma inerziale è usato anche per tanti altri scopi sulla nostra piattaforma elettronica e punto primo attraction control quando tu arrivi lì frenata al cordero a in centro curva e tu lasci il freno prendi il gas in mano il nostro sistema di controllo di trazione ti sta praticamente guidando in tutti i sensi la coppia che stiamo trasmettendo alla rotta posteriore in maniera che tu sei in massima sicurezza allo stesso momento che c'è la massima accelerazione in funzione dell'angolo di piega della moto fantastico molto molto bello poi altri altri componenti della e nuovo architettura elettronica sono i rider aids i rider aids sono i flc è un sistema sviluppato da noi e nemmeno di agusta front lift control che massimizza l'accelerazione senza minimizzare l'impienata noi vogliamo trasferimento di carico sul rotto posteriore permettendo un'impienata però allo stesso momento limitando la coppia di ribaltamento in piena sicurezza e oltre questo abbiamo anche il nostro pulsante molto interessante sul comando manubile a destra che è nuovo dove è scritto launch questo preferito il mio preferito questo bottone è veramente divertentissimo questo bottone fa sì che ognuno di noi si può sentire un pilota del mondiale basta premere quel bottone lì seguire le istruzioni che vengono fuori sul cruscotto tenere il gas completamente spalancato e tu parti come un pilota del mondiale insieme con questo abbiamo un nuovo sistema di eis il nostro elettronica assisted shift eravamo il pioneer uno dei primi di mettere un sistema di cambio elettronica sulle moto di produzione di serie la nostra eis 3.0 è la nuova generazione una generazione che ha un nuovo sensore che è non solamente più affidabile però anche ancora più precisa brian sappiamo che mv agusta è molto invidiata per lo sviluppo e l'integrazione della connettività la connettività è un tema molto importante per noi in mv agusta è un tema che abbiamo iniziato di affrontare tantissimi anni fa eravamo i pioneer mettendo sul mercato il primo app per collegare i nostri utenti con le loro moto già nel 2014 la superveloce ce l'ha un modulo di connettività con bluetooth e con gps a bordo che comunica direttamente con il cruscotto tft e mette il utente direttamente in contatto tramite il loro device e tablet e smartphone direttamente con le loro moto ti permette di intervenire tantissimo sui setting della moto in maniera di cucire la tua moto proprio addosso a te con le nostre mappature custom e non si finisce lì c'è anche tanto di più tanto di più cosa vuol dire vuol dire impostare le rute che vorrebbero fare il loro gita e il viaggio che vogliono fare direttamente dentro e l'app mv ride dentro questo app quando tu lo mandi questo al tuo cruscotto ti dà le direzioni curva per curva direttamente per portarti alla tua meta alla tua destinazione poi più bello durante la tua gita mentre stai guidando la moto tu puoi registrare dei dati posizione del comando di gas giri del motore l'angolo di piega nelle varie curve registrare tutte queste informazioni rivivere il tuo viaggio e soprattutto tu puoi fare sharing queste informazioni tu puoi andare a condividere con tutti quanti tutti i tuoi amici dentro l'ecosistema dentro la famiglia di mv ride questo è interessantissimo perché è sì una sfida con noi stessi ma anche con i nostri amici del gruppo di appunto della mv people è molto importante non solamente di collegarti con la tua moto però anche di collegare le persone sì so che c'è qualcos'altro anche della green box no sì bravissimo bravissimo noi siamo molto orgogliosi delle nostre moto e ogni tanto genera un po di invidia e come le nostre moto sono così belle e abbiamo messo su mv green box mv green box è un modulo gps che è ubicato sulla moto che ti permette tramite la nostra app gratuito di localizzare la tua moto mv ovunque dove sia nel mondo in ogni istante fantastico quindi possiamo anche prestarla potresti anche prestare tuo amico va bene senti grazie per questo overview tecnica veramente esaustiva brian io so che nel tuo nuovo ruolo di rmd director mv agusta ma anche crc puoi raccontarci adesso qualcosa proprio del centro stile di san marino no assolutamente oltre il nostro centro di eccellenze di ingegneria qui a scheran dove vengono progettati sviluppati i motori e tutta l'elettronica tutte le attività di omologazione abbiamo anche il nostro centro stile a san marino centro stile crc è un icon nello stile è un centro stile che ha creato alcuni delle moto più importante nella storia di motociclismo grazie grazie r&d director mv agusta in crc brian gillen grazie a te grazie a voi bene visto che brian ci ha fatto entrare un po del crc nel centro stile di san marino direi di parlarne con il design director crc giorgio mazzotti ciao giorgio come stai molto bene grazie bene allora senti raccontaci un po di questo posto dove nascono le moto più belle del mondo il nuovo crc è il centro stile per mi via gusta dove si immaginano si progettano si sviluppano le moto che faranno sognare ed emozionare negli ultimi anni lo stile è dato di pari passo con quella che è anche la tecnologia degli strumenti che si possono usare in questi ultimi anni stiamo usando software dedicati allo stile che devono molto dal car design adesso invece abbiamo integrato tutto questo processo innanzitutto perché abbiamo creato un open space dove progettisti designer modellatori cas modellatori virtuali lavori in un unico ambiente luce laterale le idee circolano alla velocità super soli super veloce e quindi gli scambi vengono immediati per anche la modelleria in questo open space è diviso solo con una vetrata tutti possono vedere quello che si sta creando in quel momento proprio una realtà immersiva come una realtà immersiva anche quello che è il digitale che abbiamo inserito negli ultimi anni vogliamo parlare della super veloce anche questa è nata in maniera virtuale un bellissimo bozzetto una bellissima idea dei nostri designer fatto su una piattaforma se vogliamo insolita per una moto nuova new classic o super classic perché parte da una f3 è una moto super sportiva quindi vedere un bozzetto creato su una moto super sportiva con queste diciamo questa silhouette era un po strano anche per noi con l'ausilio appunto del 3d siamo riusciti a anticipare i tempi a capire che era un progetto validissimo e quindi anche convincere il management investire in questo progetto perché poi non solo noi guardiamo questi oggetti in maniera virtuale ma abbiamo bisogno poi anche di toccarli e certo quindi dal nostro 3d andiamo direttamente a fresare il clay o l'ureon in macchine controllo numerico aggiungendo quello ci deve essere aggiungendo prototipi sintering perché abbiamo bisogno di toccare poi alla fine per poi andare a migliorare tecnicamente e anche statisticamente grazie per questa interessantissima overview giorgio mazzotti design director crc grazie e non lasciamo il crc perché adesso abbiamo con noi il chief designer del crc stefan zashi ciao stefan ciao buongiorno a tutti come stai benissimo stefane in poche parole che cos'è super veloce a contare super veloce molto interessante perché è un po l'incontro tra il nostro passato storico sportivo molto ampio e poi un approccio dello stile molto moderno essenziale puro è una moto che ha una linea senza tempo è stata sviluppata per la velocità quindi abbiamo queste superfici molto pulite pure aerodinamico curato sensuale tutto questo è estremamente italiano ecco molto italiano mi piace anche con l'accento che l'hai detto quasi faccio il migliore bene senti il tuo approccio allo styling e al design della super veloce diciamo che mi viagusta è sinonimo di arte non è nuovo mi viagusta è una scultura tutte le nostre moto sono fatte a mano perché c'è questa volontà di toccare il materiale toccare i volumi le superfici sentire l'emozione veramente c'è una connessione tra il pilota e il suo macchina che è al centro del suo lavoro veramente la moto è l'estensione del tuo corpo estensione della tua anima qui noi passiamo un tempo incredibile a pensare modellare creare a immaginare andare avanti indietro tra il tavolo del designer e il prodotto tipo scala 1 ecco a proposito di questo su quali particolari hai focalizzato la tua attenzione per quest'anno la super veloce condivide con tutto il line up il nuovo scarico e poi il crc con il grafico in college in design hanno creato due versioni una versione gialla grigia e poi la versione s per lato bianco oro tutti questi modelli esatto tutti questi modelli sono stati curati in tutti i dettagli per trasportare cliente nel passato con tutta la tecnologia moderna e questo è incredibile e se posso aggiungere una cosa assolutamente se uno vuole avere questo gusto questo sapore del passato delle gare delle anni 60 70 abbiamo il nostro racing che che comprende stella monoposto mappa dedicata e il stupendo megafono tre uscite grazie grazie cif design crc stefan sas grazie grazie anche a tutti gli ospiti che hanno contribuito a questo bellissimo evento per il lancio della nuova gamma super veloce 2021 grazie a voi che ci seguite sempre con tanta attenzione e passione state allerta perché ci saranno altre presentazioni anche la nuova turismo veloce e nel frattempo let's ride grazie a tutti Grazie a tutti.